tre sono le parole chiave esperienza molto più che decennale in questo caso umanità e carisma e il disegno del profilo dell'ultimo arrivato in casa polisportiva no non è una calcettista ma un dirigente segretario amministrativo per essere precisi a 66 anni viene da fasano e si chiama giovanni montanaro mi intorno soprattutto perché è una società giovane molto ambiziosa che c'è un buonissimo progetto e poi soprattutto perché c'è mister panarale che mi ha voluto qua ha parlato con il presidente quindi sono molto contento di aver accettato anche perché la seguivo già dall'inizio del campionato dopo l'ultima esperienza quella rutigliano chiusasi qualche giorno fa montanaro ha accettato la corte nero verde fatta nelle volontà del patron silvano in tiri e nella conoscenza con michele pannarale ed è pronto a dare la sua esperienza a tutto l'ambiente soprattutto nei rapporti federali sul roster invece c'è grandissima fiducia questa è una squadra di ottimi elementi stranieri italiani e con ottimo staff tecnico che conosco e quindi certamente una squadra costruita per vincere ci sono